Al della vittoria di fronte i padroni di casa del Tolentino in maglia grigia contro il rosso-blu del San Nicolò Notaresco. Ospiti reduci da due vittorie in quattro giorni, prima in trasferta a Chieti, poi nel recupero infrasettimanale contro il Matese. Il mister ospite Massimo Epifani deve rinunciare a un bel numero di giocatori, ma quel che più pesa è l'assenza di massetti e pesce nella linea mediana. Solito schema carattico 4-3-3 con ben 6 under dal primo minuto di gara. Sul fronte locale invece il mister Andrea Mosconi si affida allo stesso unici che ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare. Severini e Padovani in avanti, linea 5 in mediana con Strano, Nonni e Bonacchi davanti al portiere Matteo Bucosse. Gara che si gioca su un terreno abbastanza pesante e che va a discapito soprattutto della formazione più tecnica. Il primo quarto d'ora scivola via senza tanti sussulti ed occasioni degne di note. Il risultato cambia proprio in concomitanza con il primo quarto d'ora di gioco. Severini apre per Padovani, crosse dalla destra verso sinistra, Salvatelli rimette al centro e Capezzani con un tocco di precisione supera tutti e porta in vantaggio la squadra di casa. Risposta immediata del rosso-blu, fucilata di Blando, ma in qualche maniera e anche grazie a un po' di fortuna Bucosse riesce a mettere il pallone sopra alla traversa. Abruzzesi che si rifanno vedere in avanti al 21esimo se stuventemente ha un calcio da fermo spiovente in aria ma la difesa del Tolentino si salva. Al 26esimo opportunità per i Cremisi, Padovani supera Gallo, la conclusione però del capitano Cremisi risulta troppo debole e nessun problema per il numero uno abruzzese. Al 35esimo spettacolo puro da parte dei giocatori di casa, quattro tocchi da Capezzani a Padovani per Tortelli, appoggio all'indirizzo di Severini che trova l'angolo giusto e Sciba non può far altro che raccogliere il pallone nel zappo. 2-0 per il Tolentino. Si chiude così la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio della squadra di Mosconi. Il copione non cambia anche nei primi minuti della ripresa dove i padroni di casa sono guardinghi e controllano senza tanti patemi d'animo. Complice anche il terreno di gioco non si assista ad un incontro spettacolare. Al nono azione elaborata rosso-blu ma alla fine Bucosse anticipa tutti. Doppio campio di mister Epifani al dodicesimo, richiamati in panca Pampano e Masserotti ma la scintilla che il mister Abruzzese vorrebbe non si vede. Anzi la formazione ospite al diciassettesimo rimane in inferiorità numerica per il fallo di Valenti su Salvatelli. Proteste ospite ma l'arbitro dopo essersi consultato con il primo collaboratore è irremovibile. Al ventottesimo prova la conclusione a giro Severini al termine di una buona manovra dai locali. Arriva sempre prima sul pallone la formazione Cremisi nella zona nervalgica del campo e cerca di sfruttare le ripartenze che però non danno il frutto sperato. Al quarantesimo terzo angolo Cremisi Severini va a cercare la testa di Stano, palla a lato. Un minuto più tardi conclusione del capitano rosso-blu ospite ma Bucosse è reattivo e ferma. Al quarantaquattresimo, traversone dalla destra, Pedric mette sopra il montante. Si chiude così la gara, quinto successo interno del Tolentino in casa con solo due reti subite nel corso dei sei contri giocati proprio al della vittoria. Allora mister, una vittoria, tre punti importanti, ancora un successo interno e di numeri importanti ce ne sono tanti quest'oggi a partire anche dal fatto che nelle gare interne il Tolentino ha subito solamente due reti. Sì, numeri importanti però sono anche tanti numeri per arrivare alla salvezza. È il campionato difficile, oggi abbiamo battuto secondo me una delle squadre più forti, se non la più forte del campionato. Una squadra che ha tanti giocatori, giocatori forti, giocatori importanti, allenatore bravo. Però penso che l'abbiamo legittimata sia il primo tempo che il secondo tempo, a parte l'espulsione loro, ma questo è il calcio. Abbiamo fatto una grande prova, forse non giocare la media ancora tecnicamente qualcosa del primo tempo, però i ragazzi sono stati eccezionali. È un grande gruppo, una buona squadra, però la strada è ancora lunga, dobbiamo risettare subito. Abbiamo già uno scontro salvezza mercoledì col Chiedi, una squadra che ha vinto oggi fuori casa, però ci avrà l'umore a mille. Bisogna soltanto dire che secondo me abbiamo fatto una buona gara e una vittoria giusta. Mister, una partita che il Tolentino ha controllato a centro campo, peccato anche per le due assenze che avevano nel Vartorio Realgico. Due? Oggi avevamo tantissime assenze, forse 5-6-7, non ne manco avevo perso il conto. Oggi eravamo in emergenza, però non in alibi, assolutamente. Avevamo giocatori infortunati in banchina per arrivare a 20. Oggi alla squadra gli avevo chiesto una partita gagliarda, con i denti stretti, perché sapevo che eravamo in difficoltà. Poi c'è capitato anche il campo pesante, una squadra che è abituata a giocare su questo campo, che è la sua forza. La partita è stata difficile, poi abbiamo preso gol, abbiamo preso il secondo gol, ha fatto un euro-goal al giocatore loro. Poi abbiamo provato in qualche maniera per riaprirla, cercare con la forza che avevamo dentro. Poi c'è stata l'espulsione, secondo me, ingiustissima, e da lì la partita poi è finita. È stato solamente un finale dove noi abbiamo provato sicuramente a cercare di accorciare le distanze, ma ogni volta che ci aprivamo con un nome in meno, loro sono bravi molto in contropiede, abbiamo anche rischiato, però siamo stati anche bravi a non prendere il terzo gol. Questa è una partita purtroppo che è andata male e che è di insegnamento. Quando ci sono le partite dove sei in difficoltà devi dare sicuramente qualcosa di più sotto l'aspetto motivazionale, metterci qualcosa in più. Noi siamo una squadra tecnica che sta a giocare a calcio, per oggi il campo era penalizzante molto per noi, oltre al fatto che avevamo risorse anche fisiche, perché oggi eravamo una squadra non strutturata, tutti piccolini. Però capito, seppa di Andre, ma questo non è un problema, gli Andre quando sono bravi giocano, il problema è che su un campo reggiene avevamo bisogno di un po' di fisicità e oggi la fisicità non c'è stata.